Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd. È disponibile su Netflix Prison Break, serie Fox del 2005, andata in onda in Italia per la prima volta nel 2006, che è una delle più importanti della mia vita. Prison Break è una serie cult, apprezzatissima all'epoca sia da pubblico che da critica, che però non tutti voi probabilmente hanno visto e grazie al cielo Netflix ci lancia questa manna incredibile rendendola disponibile sul suo catalogo. E quindi come resistere a un re-watchione o a guardare per la prima volta un prodotto fenomenale come Prison Break? Resistere è inutile, amici, come scoprirete in questa mia recensione, rigorosamente senza spoiler. Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando sul tastino Iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare, che è sempre una cosa importantissima. E se volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopolinerd Everywhere, allora followatemi su Instagram, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, che condividete questo video in ogni dove. Bene, ciancio alle bande e un nome solo, T-Bag. Ebbene sì, T-Bag è il mio personaggio preferito di tutta la serie, ma sono qua per raccontarvi di più su Prison Break e ve lo devo dire subito. Io considero le prime due stagioni due veri capolavori, tanto che all'epoca avevo comprato i confanetti in DVD, insomma, una vera fissazione la mia, quella per questa serie. E già che ci sono mi tolgo pure questo sassolino. Non considero le stagioni successive, ovvero dalla terza in poi, all'altezza delle prime due. Benissimo, l'ho detto, lo sapete, amici come prima, e quindi cominciamo a parlare più cicciosamente di Prison Break. Perché, non so se lo sapete, ma Prison Break è una vera figata. Una vera figata a 360 gradi, sì perché tutto è figo in Prison Break, a cominciare dal soggetto. Hai visto un soggetto che, da solo, riesce a creare così tanto hype, così tanto attaccamento alla serie, ma proprio da solo, eh? Certo, tutte le altre componenti sono importantissime, ma si vanno ad aggiungere al potere enorme che ha il soggetto di Prison Break. Michael Schofield, ingegnere di un certo peso e anche piuttosto geniale, decide di farsi arrestare e farsi mettere nella stessa prigione dove è detenuto in isolamento suo fratello, condannato a morte per un omicidio che forse non ha commesso, o forse sì. Ovviamente Michael crede nella sua non colpevolezza, infatti si è fatto incarcerare proprio nella stessa prigione del fratello, per aiutarlo a evadere. Un piano elaboratissimo, quello di Michael Schofield, che si è fatto tatuare sul busto e sulle braccia, sì, fronte e retro, con un tatuaggio meraviglioso che contiene non solo la mappa di tutto il carcere, ma anche tanti indizi e tanti, diciamo, promemoria, d'altronde non si poteva portare i post-it in prigione, che lo aiuteranno a mettere in atto il suo piano macchiavellico. My name is Michael Schofield. Ma per quanto Michael Schofield sia un duro e abbia progettato tutto alla perfezione, c'è una variabile di cui non si può tenere mai perfettamente conto, ovvero la variabile umana. Sì, perché all'interno del carcere di Fox River conosce un sacco di criminali, un sacco di personcine poco raccomandabili che in un modo o nell'altro potrebbero compromettere la sua fuga e quella del fratello. Conosciamo dei personaggi meravigliosi, altro lato estremamente figo di Prison Break, perché questi criminali con cui Michael Schofield si deve relazionare sono stupendi. E lo so che probabilmente vi farà impressione che io dica che dei criminali sono stupendi, ma è stupendo come sono stati caratterizzati, quanto siano sfaccettati, quanto siano profondi. Abbiamo il mafioso, Abruzzi, mio secondo personaggio preferito interpretato dal fantastico Peter Stormer, abbiamo C-Note, l'afroamericano gangsta che ha tutti i suoi giri nel cortile che non avete idea, e poi ne abbiamo tantissimi altri come T-Bag. T-Bag è il mio appunto personaggio preferito in tutta la serie, è sicuramente il personaggio più terribile, perché è uno stupratore e un assassino di bambini. La cosa incredibile all'interno di Prison Break è che ti costruisce dei personaggi che sono talmente tridimensionali, che ti affezioni per forza e ogni tanto però ti dimentichi che sono delle persone orribili, tipo T-Bag. Infatti mi ricordo questa passione incredibile nei confronti di questo personaggio durante l'episodio, finito l'episodio dicevo, no però questo è uno stupratore, è un assassino di bambini. E poi passavo una settimana tormentatissima. Certo, di fronte a dei personaggi così ben scritti, lo spettatore non può che capitolare e lasciarsi affascinare da loro, soprattutto da quelli più malvagi. Ma non è che Prison Break ad un certo punto ti dice T-Bag, stupratore e assassino di bambini, in realtà dentro è buono. È come se ti dicessero, se un personaggio come T-Bag ti piace, ti piace, spettatore, a tuo rischio e pericolo. Prison Break è fighissima anche dal punto di vista visivo, perché diciamo gli aspetti più visivi della serie sono estremamente a servizio della storia, dei personaggi, dell'intreccio strepitoso, del piano di Michael Schofield. Perché cos'è Prison Break? Prison Break è un concentrato di tensione allo stato puro. Sì, è tensiva sempre, quasi sempre, ecco, ogni volta che si aggiunge un tassello al piano di Michael Schofield, che scopriamo quella porzione di tatuaggio che cosa significa, a cosa gli serve. Prison Break ti tiene incollato allo schermo, cosa che ha fatto con me anche oggi. Ebbene sì, perché saranno passati pure 15 anni dalla prima stagione di Prison Break. Ma lasciatemelo dire, non è invecchiata. Perché era proprio quella la mia principale preoccupazione prima di iniziare, diciamo, una sorta di riuoccione. No, non è invecchiata. L'unica cosa che vi potrebbe un po' stranire, se non l'avete già vista all'epoca, ovvero 15 anni fa, ecco, è che le stagioni sono composte da moltissimi episodi, ovvero 22. E ogni episodio magari potrebbe avere, almeno all'inizio, qualche rimando all'episodio precedente, perché a metà degli anni 2000 il binge-watching ancora non esisteva. Quindi questa serie è stata pensata per una fruizione molto molto diversa, perciò non scioccatevi per quel minimo recap intradiegetico all'interno, insomma, dell'inizio di ogni episodio. Ma per quanto io possa affermare che appunto Prison Break non sia invecchiata, si possono notare molti aspetti tipici 2005, come a volte spessissimo, o anzi l'ha messa in scena, la sigla con tutti il super lenta, con sovrapposizioni di insolvenze, gli slow motion, insomma, tutte robe estremamente 2005. Il che non è che sia un male, anzi, per chi non ha potuto vivere la stagione televisiva di quegli anni e ha l'opportunità oggi di spararsela su Netflix, sicuramente dà molte più informazioni su com'era la tv allora. Il fatto di dire allora all'epoca così mi fa sentire estremamente vecchia. Tuttavia, la necessità di creare 22 episodi per stagione richiedeva appunto che il ritmo fosse un po' diluito. Ma la cosa figa di Prison Break è che non è che diluisce il ritmo di tutte le parti della storia, no, perché il piano di Michael Schofield viene raccontato sempre in maniera fighissima, sempre in maniera coerente, senza prendersi mai troppo tempo rispetto a quello che lo sviluppo di quel lato della storia richiede. Beh, ci sono alcune linee narrative che oggi sicuramente sarebbero state asciugate tantissimo, sarebbero state ridotte all'osso solo ed esclusivamente a servizio della spiegazione e della realizzazione del piano del protagonista. Ecco, invece, in queste stagioni da 22 episodi, in queste linee narrative, se la prendevano un po' scialla, no? Tuttavia è un prenderselo sciallo che non pesa, perché per quanto siano abbastanza dilatate come ritmo, non sono mai dilatate come tempo, ovvero non vi fanno mai annoiare, non vi viene la voglia di schipparle. Insomma, io amo Prison Break e veramente non esagero se dico che è stata una delle serie più importanti della mia vita, anzi, la serie della mia adolescenza. C'è chi è cresciuto con Beverly Hills 9210, chi con Dawson's Creek, chi con D.O.C., chi con Gossip Girl, invece, la serie che ha segnato la mia adolescenza è Prison Break. Insomma, ci sono le storie love love tra adolescenti e ci sono anche i carcerati che commettono crimini e robe varie e io alla fine ho deciso di propendere per quelli. Ma non è stata una decisione dettata da spocchia o odio nei confronti dei teen drama, assolutamente no, le adoro ancora oggi, semplicemente mi sono arresa di fronte all'evidenza che sì, Prison Break era la serie fatta per me. E badate bene che a me non piacciono le serie dove viene raccontata la vita dei carcerati, la vita dei criminali o le serie sulla criminalità organizzata, assolutamente no. Il che sorprende ancora di più, no, il fatto che Prison Break sia una delle serie del mio cuore e assolutamente la serie della mia adolescenza. Eh sì, Prison Break mi ha, veramente mi ha conquistato sin da subito, infatti ricordo all'epoca, nel lontano 2006, perché la prima messa in onda in Italia infatti è stata su Italia 1 alle 23, ricordo il primo spot televisivo, il prossimamente, no, che avevano lanciato durante una pausa pubblicitaria di Veronica Mars, altra serie che ho adorato durante la mia adolescenza. E ricordo lo stupore, la meraviglia che avevo provato nel vedere questo corpo di questo tizio completamente ricoperto da tatuaggi. Io non ho tatuaggi, mi piacciono molto, tuttavia mi interessava tantissimo una serie in cui un tizio si era tatuato non solo robe per fare il figo o che piacessero a lui, ma un piano, una mappa, tutte robe super intelligenti, cioè veramente era uscita completamente di testa. Non vi dico la sofferenza poi la mattina dopo nel risvegliarsi, no, perché due episodi iniziavano alle 11, finivano praticamente all'una, la mattina dopo dovevo andare a scuola. Ma non importava perché Prison Break, vedere Prison Break in seconda serata era la vera priorità di quei mesi della mia esistenza. E anche mia mamma non se ne perdeva un episodio, infatti restava sveglia a guardarlo assieme a me, mentre mio papà se ne andava a letto perché troppa tensione, troppa agitazione, troppa ansia, non ce la faccio, vado a dormire. Ma il più grande merito che personalmente riconosco a Prison Break è stata quella di dettare i parametri a cui tengo di più in una serie tv, ovvero il soggetto, l'intreccio e i personaggi e le relazioni tra di loro. Perché Prison Break ha dimostrato che anche dei criminali terribili, malvagi, possono entrare nel tuo cuore e restarci per sempre. Perché io in 15 anni non ho mai dimenticato un volto, non ho mai dimenticato un nome, non ho mai dimenticato nulla che riguardasse i personaggi presenti in Prison Break. E questo, secondo me, è un risultato davvero invidiabile. Non tutte le serie tv possono vantarsi di aver raggiunto tale risultato, e perché no? Perché soltanto i veri capolavori ce la fanno. Come un vero capolavoro sono le prime due stagioni di Prison Break. Se questo video vi è piaciuto, come è piaciuto a Sakura la Shiba Inu e il Corgino al suo fianco, due veri cani da segugio che riuscirebbero a sventare qualsiasi evasione da qualsiasi carcere, allora dovete fare sempre le solite cose, ovvero mettere mi piace, lasciare un commento, iscrivervi al canale YouTube di Cosmo Paliner, attivando anche la campanella delle notifiche su in alto, che è sempre una cosa importantissima, altrimenti... Woof, woof, sono un cane minaccioso io! Woof, woof, woof... sché, sì, sì! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì!